Oggi testo un paio di scarpe che mi incuriosiscono molto sulle ASICS Metaspeed Sky Paris. Una scarpa che si rinnova non solo nell'estetica ma soprattutto nelle caratteristiche. Come nelle versioni precedenti abbiamo la Sky adatta ai corridori che aumentano la velocità aumentando la lunghezza del passo e la Edge pensato per i corridori che aumentano la velocità aumentando la cadenza. Cosa cambia in questa versione Paris? Abbiamo una tomaia più traspirante e un peso minore, sono circa 20 grammi in meno, 185 nella versione Sky. La parte anteriore della scarpa è strutturata in modo differente seguendo una nuova forma in grado di fornire il miglior supporto all'arco plantare e dare stabilità. Nell'intersuola troviamo la nuova stiuma FF Blast Turbo Plus che oltre ad essere più leggera è anche più morbida e soffice rispetto alle precedenti conferendo una maggiore ammortizzazione. È diverso anche il drop, qui abbiamo 5 mm per entrambe le versioni, 39,5 nel tallone e 34,5 nell'avampiede. È stata modificata anche la piastra, nella Sky è stata largata nell'avampiede come stanno facendo tutti, è posizionata su tutta la lunghezza, permette una maggiore attività nella fase di partenza. Nella Edge invece la piastra è minimale e favorisce un miglior stacco dell'avampiede, un peso ridotto. Una scarpa che mi è piaciuta molto, migliorata e veloce, studiata per aiutare tutti i corridori a mantenere una corretta postura e per controllare l'angolo di appoggio del piede durante la fase di affaticamento, in modo da conservare più energia durante la gara. Quindi sicuramente in mezzo al maratone e maratona potrebbe portarvi al vostro personal best.